9. La mente istiga la mente. Cerchio marina, attraverso AM, soggetto. Se voi osservaste più da vicino che cosa porta il tempo, potreste capire che il tempo non porta mai ciò che recita la mente, ma porta sempre qualcos'altro. Eppure, finché voi rimanete lì assorbiti dal desiderio della connessione, dal desiderio dell'armonia. Qualsiasi cosa che vi arrivi e che magari vi dissesta, vi impone immediatamente di ripristinare in qualche modo un'armonia diversa, ricollocando le vostre azioni, rivedendo i vostri pensieri, cercando di intervenire magari anche sulle vostre emozioni, perché quel cuneo che si è insinuato comunque vi appartiene in quel momento. E comunque vi parla di una possibile disconnessione rispetto a come voi vi vedevate prima. Questo è interessante, perché afferma implicitamente che tutto ciò che vi arriva non è mai, o quasi mai, ciò che voi potete osservare se vi mettete lì, a ridosso della mente. Nel mentre essa pronuncia la stessa identica sentenza, ovvero sia, mi appartiene, anche se non lo voglio. Ricordo che quando qualcosa si insinua nel vostro tempo, comunque vi appartiene, che lo vogliate o meno. Che cosa voglio dire? Quando qualcosa giunge all'umanità e non si insinua nel vostro tempo, voi potete definire che vi appartiene o non vi appartiene, a seconda di quale idea avete, di quale emotività o di quale sintonia provate rispetto a quell'evento che non sfiora il vostro tempo e quindi potete restare indifferenti, potete non considerarlo o potete considerarlo moltissimo nel vostro pensiero e nella vostra emozione. Tuttavia tutto questo non vi ridisegna la vostra vita e soprattutto non vi ridisegna la vostra giornata. E ricordo che la vita è fatta di giorni, è fatta di ore, è fatta di istanti, ma quando un fatto entra nella vostra giornata, già previsto o imprevisto, è chiaro che per la mente ciò che esso porta, qualsiasi cosa sia, la riguarda, cioè riguarda la mente e riguarda voi. Ma abbiamo detto prima che se voi affinate il vostro sguardo, potete anche cominciare a capire che nel momento in cui vedete le azioni che vi arrivano attraverso il tempo, iniziate anche a distinguere quasi istintivamente tra ciò che dovete compiere e ciò che invece vi riempie e vi allarga. Voi dite mi realizza, ovvero sia se è vero che vi riguarda qualsiasi cosa che si insinua nel vostro tempo e che viene portata a voi dal vostro tempo, è altrettanto vero che la mente non pronuncia la medesima sentenza su tutte le azioni che vi arrivano. Essa articola la sua sentenza primaria che è «comunque mi appartiene» e questo «comunque mi appartiene» diventa «lo devo fare perché è necessario», qualunque sia la ragione che lo rende necessario, oppure diventa «ah che bello», attraverso questo fatto, questo evento, questo aiuto, questa parola, questa sollecitazione, questo amore, io riscopro ancora di più me stesso e la mente aggiunge subito «mi realizzo». Necessità e realizzazione sono aggiunte che fa la mente, sono etichette che la mente, appoggia sul succedersi delle azioni portate dal tempo nel momento in cui lo definite come vostro. Uno potrebbe domandarmi «ma c'è un tempo oggettivo che non è nostro?» Direi di no. Nella vostra esperienza non c'è nessun tempo oggettivo dal vostro punto di vista, ma dal mio punto di vista esiste, sì, un tempo che non è oggettivo, ma che è un tempo che non pronuncia mai, mai e poi mai la frase che la mente recita sempre, ovvero sia «questo mi appartiene perché mi giunge». Ricordatevi che per la mente qualsiasi cosa le giunga e occupi lo spazio di cui essa si alimenta, appartiene comunque alla mente e voi mi potreste dire «no, c'è qualcosa di irriducibile rispetto alla mente». Non è vero, non c'è niente di irriducibile rispetto alla mente, se voi vi ponete da quest'ottica, perché anche un fatto tremendo o brobrioso diventa comunque proprio della mente, se non altro nelle etichette che essa immediatamente pronuncia è che fanno scattare pensieri, che fanno scattare emozioni, che fanno scattare reazioni, che fanno scattare azioni, che fanno scattare un cumulo di reazioni e un cumulo di azioni. E questo per impedire a quel fatto di dilagare o per impedire a quel fatto di approfondirsi o comunque per allontanare quel fatto, se fosse mai possibile, e via dicendo. Comunque vi riguarda tutto ciò che rappresenta quel fatto e non semplicemente quel fatto, tra virgolette, ma tutto ciò che esso rappresenta e quindi tutte le emozioni che nascono, tutti i pensieri che nascono, tutte le reazioni che nascono, tutte le controazioni che nascono. Eppure io posso certo parlare di tempo, perché se parlo di voi non posso non parlare di tempo, cioè non posso non parlare di divenire, ma da un'altra ottica, cioè un'ottica che vi racconta ancora o una volta la disconnessione. Che cosa potete dire voi se approfondite l'analisi sul tempo? Che il tempo in realtà non vi porta tutto ciò che vi recita la vostra mente, ma vi porta ben altro. Vi porta invece proprio tante piccole sequenze di avvenimenti e ricordo, l'abbiamo già detto, che anche i pensieri sono fatti, che anche le emozioni sono fatti. Vi porta quindi tanti piccoli avvenimenti che vi sottolineano in continuazione, come tutto ciò che voi dichiarate essere vostro, in realtà vi pone sempre in scacco. Nel momento in cui voi osservate che non c'è mai un'armonia reale, ma c'è sempre una disarmonia che la mente vorrebbe nascondere o che vorrebbe purificare. Se questo è vero, allora è altrettanto vero che ogni azione di un altro, ogni azione di un popolo, ogni azione della natura che rompe, quella che voi ritenete dovrebbe essere la successione degli eventi, così come ve la configurate, introducendo quindi punizioni, tra virgolette, o introducendo esasperazioni nella vostra vita, proclama sempre e solo una cosa e ciò è che la vita ha un compito soltanto, quello di disarticolarvi ulteriormente, quello di presentarvi proprio nel vostro essere disarticolati. Provate a pensare. Ogni volta che vi arriva un fatto insolito, immediatamente voi provate un senso di disarticolamento, se non ascoltate la mente, che immediatamente dice, e no, tutto questo provoca caos. Mettiamo un po' a posto questo caos, quindi provoca disarticolamento e voi allora potete accorgervi che nello stesso istante siete attraversati da pensieri diversi, da emozioni diverse e da spinte all'azione diverse e in quello stesso istante voi vedete la mente che immediatamente comincia ad etichettare, etichettare ed etichettare. E che cosa fa attraverso le etichette? Esorcizza il potere scalzante di ciò che la vita vi fa arrivare. Tutto ciò che entra nel vostro tempo per lo più vi disarticola e vi disarciona, perché è difficile che vi arrivi un qualcosa che sia perfettamente in armonia, non con quello che voi siete in genere, ma con quello che voi siete in quel momento, perché normalmente quello che siete in quel momento è la conseguenza di quello che eravate un attimo prima. Ma voi sapete che la mente è profondamente instabile e quando arriva qualcosa di nuovo nel senso di poco previsto o di previsto in una certa maniera immediatamente la mente viene colpita da questa introduzione e deve o armarsi o disarmarsi o comunque stringere ciò che arriva in modo tale da farlo parlare secondo un linguaggio che non appartiene a quel qualcosa di nuovo. In altri termini, se voi osservate ogni volta che dentro la vostra vita quotidiana arriva qualcosa e non ho detto che arriva qualcosa che voi avevate previsto e così come lo avevate previsto, ma che arriva qualcosa, sottolineo questo, la mente deve riposizionarsi. E come fa per riposizionarsi? Si auto esalta alle volte, oppure freme, oppure si impunta, oppure si rifiuta di pigliarlo in considerazione, oppure sbotta, uffa. E cioè che cosa fa? In fondo guarda quello che arriva e scopre che quello che arriva non la pacifica mai, ma la stimola sempre. Ogni fatto vi stimola in una maniera piuttosto che in un'altra, ovviamente se attraversa il vostro tempo. Voi direte, no, ci sono dei fatti che non mi stimolano per niente, che mi lasciano assolutamente indifferente. Non è vero. Se quel fatto vi occupa il tempo, inesorabilmente vi stimola, il che non vuol dire che vi porti a fare, ma il che vuol dire che magari vi stimola nel senso che non sapendo né come affrontarlo, né come risolverlo, né come liberarvene, ve ne state in un angolino e continuate a brontolare contro quel fatto, contro colui che è venuto a trovarvi in quel momento e non lo volevate, contro colei che vi sta parlando al telefono, dilungandosi, e non lo volete, contro colui che vi dichiara che quel lavoro che avete fatto non è appuntino. Vi sollecita perché per la mente ogni volta che arriva qualcosa che si introduce nel tempo è sempre un'istigazione, sempre, sempre. Io so che voi non siete d'accordo fino in fondo, perché sento le vostre menti che dicono, ma se io avevo previsto una cosa ed essa mi giunge esattamente come io l'avevo prevista ed era una cosa, un fatto o una presenza gioiosa, la mente non è che debba riposizionarsi. Davvero? Siete davvero sicuri? Quando la mente prevede un fatto non si comporta come quando quel fatto succede se quel fatto esalta la mente. Quando quel fatto succede quel fatto istiga la mente e la mente nel suo comportamento e nella sua etichetta in quel momento non lo vede mai come ciò che si era configurata prima che quel fatto arrivasse. L'incontro con il fatto, naturalmente visto con gli occhi della mente, istiga sempre la mente.